Con il profumo di Tifinitia stiamo realizzando un progetto chiamato disegno e arredo, vedo la posizione dell'arredo, è a nostro piacimento, ma dobbiamo tenere conto di suddividere la casa in zona giorno e zona notte. Queste due piantine rappresentano la stessa casa, entrando la porta ci porta direttamente alla zona giorno in cui si trova il salotto, la bucina e la sala da pranzo. Girando a destra abbiamo un corridoio che ci porta invece alla zona notte, composta da bagni e da cambiamento. Le posizioni dei mobili possono essere a nostro piacere, però bisogna considerare le zone. Per esempio non si può mettere il letto vicino all'ingresso, i mobili sono visti dall'alto. Per esempio non si può mettere il letto vicino all'ingresso, i mobili sono visti dall'alto.